RUCCAFORTI Rivendichi e mantenga in suo controllo le zone, Spartan. RETA PORTE Doppia uccisione. La tua squadra sta ottenendo punti. È sua. E adesso teniamocela stessa. Il nemico ha conquistato Bravo. Sono vicini. Laggiù! Ho stile inizio. Ho un nemico addosso. Il nemico ha conquistato Bravo. La squadra avversaria sta ottenendo punti. Il nemico ha conquistato Charlie. Abbiamo conquistato Bravo. La tua squadra sta ottenendo punti. Carbonizzatore in arrivo. Carbonizzatore disponibile. La Roccaforte Bravo è persa. La squadra avversaria sta ottenendo punti. La Roccaforte Charlie è persa. La tua squadra sta ottenendo punti. Scrivi nemici fuori uso. La squadra avversaria sta ottenendo punti. Abbiamo conquistato Alpha. La tua squadra sta ottenendo punti. La Roccaforte Bravo è nostra. L'amica è stata ottenendo punti. L'amica è stata ottenendo punti. La cinta è stata ottenendo punti. Il nemico ha conquistato Bravo La squadra avversaria sta ottenendo punti Granate a spuntoni ottenute Carbonizzatore in arrivo La roccaforte alfa è persa Carbonizzatore disponibile Ho perso un compagno di squadra Lancio una granata La roccaforte Charlie è persa Granata lanciata La roccaforte bravo è persa La roccaforte Charlie è nostra La tua squadra sta ottenendo punti La squadra avversaria sta ottenendo punti La tua squadra sta ottenendo punti Abbiamo conquistato Charlie Il nemico ha conquistato Bravo A metà dell'opera Carbonizzatore in arrivo Abbiamo conquistato Bravo Il nemico ha conquistato Charlie Copritemi le spalle Carbonizzatore disponibile Arrivederci Siamo Con aiuto Abbiamo raccontato Charlie Il nemico ha conquistato Charlie la squadra avversaria sta ottenendo punti la roccaforte bravo è nostra la tua squadra sta ottenendo la roccaforte alfa è persa un altro nemico eliminato prossimo alla vittoria 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 non no Grazie a tutti. Grazie a tutti.